La zia è fidanzata con Daniele Lui è mio zio Lo posso chiamare zio Daniele? La zia è fidanzata con Daniele Ho deciso di chiedere il trasferimento per Roma Vado a vivere con Daniele Siamo noi la tua famiglia Se mi dice di venire E' un po' La zia è fidanzata con Daniele Mi interessa soltanto viaggiare perché non voglio fare solo Mentre ora quello che vuole dare la vita è stare con Lia e crescere il nostro figlio E questo io lo devo solamente a te Per questo motivo io ti ringrazio Stai aspettando un bambino e c'è un padre Non esiste più a noi E' davvero questa la tua risposta Buona fortuna Lia La zia è fidanzata con Daniele 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 La zia è fidanzata con Daniele